A Martinsicuro riconfermato con un larghissimo consenso il sindaco uscente Massimo Vagnoni sostenuto nella sua campagna elettorale dalle liste Martin Rosa, progetto comune e continuiamo insieme. Due liste in meno rispetto alle amministrative del 2017. Grande soddisfazione da parte di Vagnoni che come prima cosa ha voluto ringraziare la città per l'importante risultato. Noi ci aspettavamo un risultato positivo, questo senza dubbio, però è un risultato importante, è un risultato molto forte, è un messaggio che la città sicuramente ha voluto dare. È il risultato del lavoro svolto in questi cinque anni? Assolutamente sì, è il risultato svolto in questi cinque anni, è il risultato di quello che è stato l'approccio, un approccio umile, un approccio fatto di operatività, di disponibilità nei confronti della gente. E poi grazie a tutti i candidati che si sono cimentati in questa competizione insieme a noi che avevamo amministrati in questi cinque anni, è veramente un ottimo risultato di squadra. È stata una campagna elettorale intensa, senza dubbi, in cui noi abbiamo parlato di temi e basta. A noi ci interessano queste cose, ci interessano le cose da migliorare della città, ci interessano i cittadini, non ci interessano le polemiche, le sigle, le caratterizzazioni, quindi andiamo avanti così. Cosa vuole dire agli altri due candidati? Insomma, congratulazioni innanzitutto per essersi spesi per la città e quindi che lavoreremo tutti quanti insieme in Consiglio Comunale. L'unica nota negativa è il fatto che l'8% in meno rispetto al 2017 delle persone sono andate a votare. Sì, questo non è un dato positivo, l'altra volta si votava in un giorno e mezzo, questo non so se ha inciso sicuramente, però è una riflessione che chi fa politica deve fare. Netta la differenza con la seconda candidata, Simona Lattanzi, che era appoggiata da tre liste di area centrosinistra. Purtroppo è stata un po' precipitosa perché non eravamo organizzati da tanto tempo, quindi abbiamo cercato di fare il possibile con tutte le armi che avevamo. Sappiamo che questa riunione del centrosinistra è stata miracolosa, meno miracolosa è stato il risultato perché in effetti è arrivata un po' alla fine questa unione, quindi ci possiamo lavorare. Sappiamo che finalmente si è formato un buon gruppo e questi anni che abbiamo di fronte di opposizione li vivremo al meglio con tutta l'energia possibile. Terza, Emma Zarroli, ex presidente del Consiglio Comunale, letta cinque anni fa tra le file di Vagnoni e in queste amministrative appoggiata da una solarista.